Cari colleghi, sono scommetto che tutti voi alla mattina vi risvegliate con il classico rumore della caffettiera che sobollisce sul fornello. Oppure quanti di voi in realtà non vanno al bar a fare colazione, magari prendono un caffè o un cappuccino? Previamo questo caffè, questo cappuccino e ci sentiamo come Asterix, quindi ci irrigidiamo dalla testa ai piedi, ci si rizzano i capelli, i peli sulla schiena e siamo pronti ad affrontare la giornata con energia. La caffeina in realtà è la sostanza alla base di tale scarica di energia. Non so se lo troverete interessante, però il caffè non è in realtà l'unica bevanda che contiene la caffeina, poiché questa sostanza la possiamo trovare ad esempio nel tè verde, nel tè nero, ma anche in alcune bevande non alcoliche. Pensiamo ad esempio alla Coca-Cola. Quanta caffeina sia contenuta all'interno delle varie bevande in realtà sarà appunto uno dei punti che tratterò in questo discorso. La caffeina pura, nel senso della sostanza in sé, è una polvere bianca caratterizzata da un sapore amaro che è molto simile alla cocaina e mi ha sconcertato alquanto scoprire che la caffeina sia utilizzata dal 90% della popolazione ogni giorno, quindi ogni mattina e durante il giorno in realtà il 90% della popolazione mondiale consuma caffeina. La caffeina è il piacere più diffuso al mondo, molto più del sesso, della musica rock'n'roll o addirittura del cioccolato, cosa che mi ha lasciato alquanto contrariato perché io sono un grande appassionato del cioccolato. E di conseguenza se la caffeina è il piacere più diffuso al mondo, allora è anche la droga più diffusa al mondo. Tuttavia è difficile a livello sociale considerarla una droga proprio perché la assumiamo a livello quotidiano. Tuttavia è interessante notare come la caffeina abbia degli effetti sul cervello, in particolare blocca i cosiddetti neurotrasmettitori, ossia si tratta di quei ricettori di una sostanza chiamata adenosina, sostanza incaricata di comunicare al cervello la sensazione di stanchezza, di spossatezza. Quindi andando a interferire con le comunicazioni interne al nostro corpo tra questi ricettori e il cervello in realtà ci consentono appunto di farci sempre sentire pieni di energia, carica, pronti a combattere qualsiasi guerra, ci si profili all'orizzonte. La caffeina è una sostanza chimica che è presente tranquillamente in natura, vi dicevo è presente in molte bevande ed è prodotta dalle piante. Per decenni gli scienziati hanno pensato che la caffeina fosse utilizzata come insetticida, proprio per scoraggiare i predatori e quindi proteggere le piante dall'attacco di qualsiasi tipo di animale. In realtà in passato uno scienziato della nutrizione chiamato Harold McGee ha scoperto che ad alcuni insetti, in particolare api, la caffeina non dà fastidio, anzi, sembra che le api traggano dalla caffeina proprio gli stessi benefici che noi esseri umani ne deriviamo, quindi nutrendosi di piante che contengono alti quantitativi di caffeina, le api riescono a migliorare i propri poteri di concentrazione e a espletare le proprie funzioni con un livello maggiore di precisione, insomma diventano praticamente l'equivalente di noi esseri umani. Quando, vi chiederete, è iniziato l'uso da parte degli umani della caffeina? In realtà l'utilizzo più antico documentato è stato riscontrato nella zona che si trova al confine tra il Messico e il Guatemala, quindi indicativamente sulla costa del Pacifico. Più di 3.000 anni fa, infatti, la popolazione locale si nutriva già di fave di cacao. La cioccolata non ve l'avevo ancora menzionata, però in realtà anche le fave di cacao, quindi la pianta del cacao, contengono caffeina. Sappiamo tutti quanti che in passato il cioccolato non era consumato nei classici cioccolatini o nelle barrette come facciamo al giorno d'oggi, ma che invece i maia, soprattutto gli azzechi ad esempio, si nutrivano di bevande realizzate appunto con le fave di cacao. Le origini del caffè, per parlarvi di un'altra delle bevande, sono in realtà invece avvolte nel mistero, quindi se sappiamo quando la caffeina è stata utilizzata per la prima volta, per quanto riguarda il caffè invece ci sono ancora dei punti oscuri. La leggenda vuole che in passato c'era un pastore che stava osservando le proprie pecore e questo è tutto ad un tratto, hanno iniziato a fare delle acrobatie che neanche quelle del Cirque du Soleil, proprio perché si erano nutrite di queste bacche rosse prodotte appunto dalla pianta del caffè. In realtà sembra che questa sia una storia inventata di sana pianta e una balzana, se non altro, per diffondere appunto una leggenda metropolitana sull'origine del caffè. È interessante notare come già attorno al 1500 la pianta del caffè fosse coltivata nello Yemen e sempre nello Yemen sono nati i primi bar, come lo intendiamo in Italia, ossia delle vere e proprie botteghe del caffè. Poi in seguito si è avuto un'espansione nel Medio Oriente, in Egitto e successivamente anche nel resto del mondo. Tuttavia il mistero si infittisce quando diamo un'occhiata al fatto a come l'utilizzo del caffè sia stato documentato dagli storici dell'epoca. Infatti gli storici arabi documentano l'utilizzo del caffè soltanto attorno al 1511 e dicono che si tratta di una pianta con effetti mai visti prima, completamente nuova, innovativa, che permetteva appunto di ricevere una scarica di energia. Il che è abbastanza curioso perché in realtà i Romani, gli Egiziani ma anche i Greci avevano contatti con molte popolazioni autoctone dell'Africa e la pianta del caffè in realtà cresce in maniera naturale in tutto il territorio africano. Quindi lascia alquanto perplessi il fatto che un utilizzo documentato di questa pianta e successivamente della bevanda che se ne ricava sia in realtà presente negli archivi se vogliamo soltanto dal 1500. Vi dicevo che la caffeina ha degli effetti sul corpo umano. In realtà occorrono all'incirca due ore per assorbire la caffeina. Quindi di solito quando bevete un caffè non è che ricevete una scarica di energia subito dopo, come se aveste messo le dita nella presa elettrica. Ci vuole del tempo perché la caffeina inizia ovviamente ad avere il proprio effetto e normalmente appunto è soltanto dopo due ore che si raggiungono i picchi massimi di efficacia della caffeina. Quindi ci sentiamo più svegli, ci sentiamo più concentrati e ci sembra appunto di essere pronti a qualsiasi cosa. Durante le mie ricerche per questo discorso ho inoltre dato un'occhiata all'effetto che la caffeina, in particolare il caffè, hanno avuto sul pensiero occidentale. E in particolare ho scoperto che dopo essere appunto stata scoperta diciamo nello Yemen e la caffeina o la pianta del caffè è stata esportata in Europa soltanto nel 1700. La cosa interessante, e ve ne parlo proprio per questo motivo, è che alcuni studiosi hanno addirittura collegato l'utilizzo del caffè per la prima volta in Europa con l'avvento dell'illuminismo. Proprio perché dicevano che essendo questa una sostanza che non era mai stata consumata prima ed essendo il caffè una bevanda che permetteva appunto di aumentare la concentrazione, di sentirci più energetici, di sentirci più pronti a qualsiasi cosa, alcuni studiosi ritengono appunto che le caffetterie, ossia i luoghi dove all'epoca si riunivano studiosi, scienziati, intellettuali e così via, fossero diventati dei veri e propri centri del sapere, dove le discussioni attorno a questa tavola rotonda appunto erano frutto degli effetti benefici, se vogliamo così chiamarli, della caffeina. E addirittura il caffè come bevanda provocò un tale shock al sistema nervoso dei poveri cittadini europei che in un momento o nell'altro tutti i governi dell'epoca cercarono di proibirne l'utilizzo. Ad esempio Carlo II di Inghilterra promulgò un divieto che proibiva l'utilizzo del caffè, però in realtà si scontrò con la popolarità della sostanza tale da dover appunto fare marcia indietro e permettere alla popolazione di utilizzare e appunto di bere il caffè. Gli effetti quindi della caffeina sono palpabili e fin qua direi che siamo tutti d'accordo. È una sostanza molto potente, talmente potente in realtà che gli atleti la utilizzano anche per migliorare le proprie prestazioni. Proprio perché il consumo di caffeina permette di ridurre le tempistiche tra l'1 e il 3%. Quindi mettiamo caso che doviate correre, fare la corsa, coprire una certa distanza, assumendo caffeina prima di partire per questa corsa riuscirete a avere tempistiche ridotte del 1-3%. Vi sembrerà una sciocchezza, però in realtà questo margine è quanto basta per garantire la vittoria appunto nelle gare olimpiche. Inoltre alcune ricerche hanno confermato come la contrazione dei muscoli sia molto più potente quando all'interno del nostro organismo è presente la caffeina e questo punto è stato dimostrato in maniera alquanto cruenta a mio parere perché uno scienziato canadese ha legato delle persone al suolo, al pavimento e li ha fatto assumere della caffeina e poi dopo gli somministrava degli shock elettrici e ovviamente ha registrato che le persone alle quali era stata somministrata caffeina avevano una contrazione dei muscoli che era molto più forte. E vi dicevo la caffeina è una sostanza utilizzata nello sport però in realtà non conta come sostanza dopante proprio perché è di utilizzo praticamente quotidiano, sarebbe praticamente impossibile proibire gli atleti di bersi una tazza di caffè al mattino o una tazzina di tè verde semplicemente perché contiene una sostanza che potrebbe migliorarne le prestazioni. E quindi fin qua uno penserebbe che la caffeina ha solo dei gran vantaggi, ci permette di correre più velocemente, ci permette di essere più attenti, più concentrati e così via. In realtà la caffeina può causare insonnia e addirittura può acuire gli attacchi di panico per le persone che soffrono d'ansia. Inoltre, e qui entriamo proprio nel merito della questione, la caffeina crea dipendenza. È una leggera dipendenza se vogliamo perché una volta che siamo stati abituati alla caffeina basta smettere di consumarla per all'incirca una settimana e il nostro organismo ritorna completamente a livello zero, quindi possiamo tornare a sentirci normali. Però sono convinto che l'abbiate sperimentato tutti perché so che il caffè è un'abitudine molto diffusa tra gli interpreti. Una volta che iniziate a bere il caffè è difficile smettere, più che altro vi abituate a bere il caffè la mattina, vi abituate a questa scarica di energia e quindi quando si smette di bere il caffè in realtà ci si sente svuotati, senza energia, svogliati addirittura e di conseguenza siete in quella che potrebbe essere definita da un punto di vista scientifico una vera e propria crisi d'astinenza. La caffeina inoltre è letale e non ve lo dico per spaventarvi, per farvi smettere di bere il caffè la mattina, ma è utilizzata nei dosaggi giusti e nella forma pura, ossia come sostanza bianca in polvere, quella di cui vi parlavo all'inizio, la caffeina può provocare la morte di una persona. Basta un cucchiaio, quindi all'incirca 10 grammi, per uccidere una persona adulta. Vi metto l'animo in pace dicendovi che una tazzina di caffè forte contiene all'incirca un sedicesimo di un cucchiaio, quindi una quantità veramente irrisoria di caffeina e non abbastanza per farvi schiattare sul momento. Quanta caffeina sia presente nelle varie bevande? In realtà varia in base alle bevande stesse, ma anche a una moltitudine di fattori. Ad esempio, il caffè e il tè sappiamo tutti che derivano dalle piante, la pianta del tè o la pianta del caffè ovviamente, e quindi di conseguenza essendo dei prodotti naturali, anche il contenuto di caffeina all'interno di queste piante varia in base alle condizioni climatiche, alla provenienza geografica e a moltissime altre cose. Inoltre c'è da considerare come prepariamo il caffè o come prepariamo il tè. Infatti la lunghezza dell'infusione o della la tipologia di torrefazione utilizzata per il caffè o addirittura quanti chicchi di caffè utilizziamo per preparare la nostra tazzina di caffè quotidiana possono influenzare il contenuto di caffeina delle bevande che appunto consumiamo. concludo citandovi un esperimento che è stato condotto da alcuni scienziati dell'Università della Florida, i quali si sono recati tutti i giorni per all'incirca 6 o 7 giorni nella stessa filiale di Starbucks. Evito la polemica sul fatto che Starbucks faccia dei caffè buoni o non buoni perché non è il caso, semplicemente volevano, hanno ordinato durante appunto tutta la durata dell'esperimento la stessa tipologia di caffè che era la tazza quella grande come viene chiamata in inglese e hanno misurato i livelli di caffeina presenti all'interno della tazza di caffè ogni giorno. In realtà hanno scoperto che c'è una varietà di contenuto di caffeina enorme. Si passava da 250 milligrammi, che è il valore più basso, a 560 milligrammi che invece è il valore più alto. Tanto per farvi capire i contenuti, 560 milligrammi di caffeina equivalgono a 7 Red Bull, quindi bevendovi una tazzona di caffè, diciamo di risciacquatura dei piatti di Starbucks, di fatto vi siete praticamente ingoiati 7 Red Bull, il che è abbastanza scandaloso a mio parere. Inoltre poi ci sono differenze su come metabolizziamo noi la caffeina in quanto esseri umani, però in realtà per entrare nel merito della questione dovremmo stare qui per altri 50 anni e io ho già parlato a ruota libera per all'incirca 17 minuti. Quindi concludo il discorso, vi ringrazio per l'attenzione e ci tengo a dirvi inoltre perché ho preparato dei biscotti che se volete possiamo tutti mangiare insieme. Grazie.